... Minchia così, ti andrò premuto con lui. Si non, machte. Non, più andremo quando... Ma volta. Ah, sì. Sì, sì, sì. Sì. Sì, scusa. Sì, scusa. Sì, scusa. Sì, scusa. Cosa di cui mi potrei spiegare? Guarda, qualcuno ha preso l'Omega. La prendo io. No, la senti. Non ti preoccupare, non c'è questo rischio. Non ti preoccupare? Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Grazie.